Sì, diciamo grandi linee, eravamo solo sport con l'arancione e rimaniamo solo sport con il rosso quindi più o meno siamo uguali, l'unica differenza è che si è visto un calo di lavoro abbastanza importante dal momento che chi si deve spostare se non ha validi motivi non può venire da noi quindi come tale stesso problema per gli altri locali, ho visto che tutti mi dicono che c'è stato un calo diciamo di un 50% che già nell'arancione eravamo abbastanza pressati diciamo Per quanto riguarda invece il periodo precedente invece di zona gialla, la gente veniva? Ma nella zona gialla sinceramente un po' di ossigeno l'abbiamo ripreso, ovviamente le 18 era un orario un po' diciamo ridicolo però il DCPM prevedeva quello, per un attimino la gente già si spostava, aveva voglia di spendere, uscire c'è fermento, anche se l'orario è un po' abbastanza stretto se devo scegliere ovviamente ben venga la zona gialla da questa arancione rossa che è proprio una pena totale Il locale è stato rinnovato con una nuova apertura sei mesi fa, quindi un semestre, un primo bilancio in un periodo così complicato lo si può fare? Sì, noi abbiamo aperto il 25 settembre, siamo partiti sempre alla grande come il nostro DNA Purtroppo Covid è in vista, ci ha bloccato da ottobre e fino ad ora è stato tutto un alternarsi di chiudi, apri, chiudi quindi il fatturato ne ha risentito in maniera importante Grazie alla nostra perseveranza e voglia di fare, di crederci siamo ancora qui ma ci vogliono le spalle molto larghe altrimenti non si sopravvive Un augurio, un buon aspicio per il futuro nella speranza poi che si va verso la primavera e l'estate? Ma io mi auguro che in previsione del caldo che arrivi, che con le vaccinazioni si torni in una fase lavorativa diciamo normale sperando che poi anche coloro che ci governano iniziano a capire che è ora che chiacchiere non ce ne vogliono più ma ora che arrivano i contributi in maniera seria, non ridicola come è stata finora Grazie a tutti